Tra la fine del secondo secolo e la seconda metà del primo secolo avanti Cristo, Roma attraversa una delle fasi più critiche della sua storia. In 50 anni si succedono ben tre guerre civili che determinano lo sfaldamento progressivo delle istituzioni repubblicane e il passaggio a un nuovo sistema di governo. I protagonisti dei tre conflitti sono valenti generali e consoli, dunque figure politiche e militari insieme che, grazie anche alla riforma dell'esercito attuata nel 100 avanti Cristo, riescono a imporre il proprio potere personale a scapito delle istituzioni della res pubblica. Ciascuna delle tre guerre civili nasce infatti dalla rivalità tra due figure eminenti di consoli generali, ognuno dei quali rappresenta una precisa fazione politica. In tre video ricostruiremo brevemente il profilo di tali figure e la dinamica dei conflitti.